Forma è qui, a Piano di Gioviano. Forma è accoglienza e cordialità, anche la domenica. Forma è un centro cucine professionale. Forma è una cucina di qualità ad un prezzo conveniente. Forma è un'assistenza post vendita su tutte le cucine, che siano da 2.000 o da 20.000 euro. Forma è progettazione d'esperienza al tuo servizio. Forma è la tua nuova cucina.